Continua l'impulso del Governo regionale al fine di accelerare l'iter burocratico necessario per il miglioramento delle infrastrutture siciliane. Nella fattispecie c'è l'intesa fra Stato-Regione per i lavori sulla Caltanissetta-Gela. È stato formalizzato infatti l'accordo tra il Presidente della Regione Renato Schifani e il Commissario straordinario dell'Opera Raffaele Celia. La legge prevede che per le opere commissariate sia necessario questo passaggio in vista del progetto definitivo. Si tratta di un passaggio importante che permetterà di completare l'iter per approvare il progetto definitivo dell'opera, dice il Presidente Schifani. E dalla Regione è arrivata immediata la firma dell'accordo. Tra gli obiettivi programmatici del mio Governo c'è quello di accelerare gli iter burocratici, soprattutto quando si tratta di opere fondamentali per il territorio. Il progetto riguarda i lotti 7-8 della strada statale 626 Valle del Salso, più conosciuta come Caltanissetta-Gela, e il completamento della tangenziale di Gela tra la strada statale 117 bis e la stessa strada statale 626. L'opera commissariata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha già ricevuto tutti i pareri necessari attraverso una conferenza di servizi e adesso occorrerà perfezionare gli atti relativi al finanziamento e approvare il progetto definitivo.